È stata la sala convegni del Palazzo del Broletto ad ospitare la cerimonia conclusiva del progetto pilota a livello nazionale di formazione delle unità cinofile antiveleno, promosso dall'assessorata all'ambiente della Regione Umbria in collaborazione con EMPA, l'ente nazionale di protezione animali e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Pila. L'evento è stato moderato dal dottor Massimo Floris, direttore della Clinica Euroveterinaria e coordinatore delle attività formative. Presenti tra gli altri l'assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni, Francesco Groham, dirigente del Servizio Foreste e Sistemi Naturalistici della Regione Umbria, Paola Tintori, tesoriere nazionale di EMPA e Salvatore Macri, dirigente del Dipartimento Prevenzione della Regione Collaborazione e Sinergia Territoriale e Saluti Pubblica. L'evento si è concluso con la consegna degli attestati ai conduttori delle unità cinofile. Si è conclusa questa fase che ha visto la preparazione di questi binomi, quindi la fase di addestramento teorica e pratica che oggi permette all'Umbria di mettere in campo delle squadre che avranno il compito di affianchiare i comuni nella lotta a un fenomeno che è un fenomeno di inciviltà, è un fenomeno spregevole e quindi come tale va contrastato e possibilmente con un'azione anche di prevenzione e va in questa direzione il lavoro fatto in questi mesi. È quello dei bocconi avvelenati, bocconi avvelenati che vengono lasciati nel territorio e che determinano gravissimi danni, danni non solo agli animali, a quattro zampe, gli animali domestici ma anche la fauna selvatica rischia di essere vittima di questa pratica, ma ci sono rischi anche per l'ambiente, ci sono rischi anche per la salute degli esseri umani visto che spesso e volentieri questi bocconi avvelenati vengono anche rinvenuti nei parchi, quindi nelle zone frequentate anche da adulti ma anche da bambini, quindi abbiamo deciso grazie a una collaborazione con EMPA e con il coinvolgimento della Scuola Umbra di pubblica amministrazione di mettere in campo questo progetto pilota, quindi siamo anche molto felici e orgogliosi di questo perché l'Umbria può vantare questa esperienza all'avanguardia, io ritengo, su scala nazionale e mi auguro che l'azione pratica di queste squadre addestratore e cane possa dare un contributo davvero fattivo per sconfiggere questo fenomeno davvero spregevole come il turno di diretto. Grazie a tutti. Grazie.